Abbiamo un grande problema adesso, non so come riconoscere i fiori e le piante. Neanche io, infatti... Che facciamo? Impareremo insieme, ragazzi. Sappiamo che tanti di voi fate giardinaggio. Oggi siamo qui nel giardino di mio papà in Inghilterra e quindi abbiamo pensato di fare un tour e capire come parlare di giardini in italiano. La situazione è drammatica. In questo momento Matteo sta studiando per voi e quindi comincio con una cosa facile. Le rose, una rosa, le rose, questo è un cane che mangia sempre i rametti. Questo è un albero, non so quale albero, ma... Tuia, hai studiato? Tuia, si chiama tuia, ma cominciamo dalle basi. Questo è un albero. Questo è un limone in Inghilterra. Incredibile. Possiamo partire per il giro nel giardino. Andiamo. Questa pianta si chiama hortensia. Hortensia. Ed è molto comune anche in Italia. Seguitemi, facciamo un giro di qua. Katie ha già mostrato la tuia. No. 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 Eccoli. Non è facile pre... Katie, che stai facendo? Andiamo, abbiamo tutto il giardino che ci aspetta. Caperti dai sottotitoli. Aspetta, aspetta. Questa è la tuia. Proseguiamo. Passando sopra il cane che mangia il legno. Continuiamo a camminare per il giardino. E intanto ne approfitto per dirvi che, se vi è piaciuta o vi sta piacendo questo episodio, mettete un like e iscrivetevi al canale. In questo modo ci aiutate a continuare a creare contenuti così. O meglio, per continuare ovviamente a vedere le nostre facce simpatiche, è quella di Brody. Ovviamente. Allora, questo fiore lilla, o quasi viola, si chiama silene o crotonella. Come? Silene o crotonella. E questo è solo l'inizio di nomi molto, molto, molto strani. Perché, per esempio, possiamo... Allora, questo potrebbe essere un mandarino giapponese. O semplicemente un cespuglio. Un cespuglio. Un cespuglio. Ce n'era una molto divertente. Venite con me. Come puoi parlare del tuo giardino? Puoi dire che nel tuo giardino ci sono rose, ortenzie, alberi delle farfalle, api. Ma come puoi fare a ricordare tutte queste cose? Facilissimo. Basta essere membri della comunità IsItalian. In questo modo, questa settimana, come in tutte le settimane, avrai accesso a materiali come vocabolario per ripassare tutti i vocaboli della puntata, esercizi per allenarti a parlare del tuo giardino e materiali come video con e senza sottotitoli o audio lento e veloce per allenare il tuo ascolto anche quando non sei al computer. Per saperne di più, clicca il link in descrizione. Io torno a studiare perché altrimenti niente video. Questa gialla dovrebbe essere mazza d'oro punteggiata. Mazza d'oro punteggiata. Punteggiata. Qualcuno sta annaffiando le piante. Ah, questa è una frase utile. È innaffiare o annaffiare? Non lo so, annaffiare. A quanto pare, innaffiare e annaffiare possono essere usati indistintamente. Annaffiare è più usato, ma si possono usare tutti e due. Quindi qualcuno sta annaffiando o innaffiando le piante e il giardino. Proseguirei e andrei a vedere questa simpatica pianta color lavanda, viola chiaro. Questa è l'albero delle farfalle. Ripeto, questo è l'albero delle farfalle. Molto frequente in Inghilterra si vede anche a bordo strada, un po' ovunque. Ma non ci sono le farfalle? Ora no, però potrebbero esserci. Abbiamo un'altra tuia. No, ancora no, 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 torna sopra. Non possiamo fare questo, tutti gli alberi. Andiamo. Questo è un ciliegio. È un ciliegio. Quindi l'albero delle ciliegie. Il frutto è femminile, ad esempio la ciliegia, le ciliegie, ma l'albero è maschile, il ciliegio. L'arancia, l'arancio. Ti vengono in mente altri esempi? Il pesco, la pesca, l'albicocco, l'albicocca. Il limone, il limone. Il limone, il limone. Scusate, capita. Io adoro quest'albero. Eh, punto. Come si chiama? Eh, non lo so. Ah! Scusami, niente. Questa volta si è arrabbiato. Sul serio. Eh, ok. Questa pianta, questa pianta, questo albero è una betulla. Una? Questo albero è una betulla. E' un albero molto bello. Il nome botanico è betula pendula. Adesso, questa ha un nome strano, questo fiore. Si chiama digitale rosa. Io lo chiamerei campanella, però probabilmente sbagliando. digitale rossa, digitale rossa. Con la r e la doppia s, perché altrimenti sarebbe rosa, che è un altro colore. Rosa, rossa. Rosa, rossa. Andiamo avanti e scopriamo questo che potrebbe essere un tasso, la pianta, l'albero, ma qui abbiamo cose più interessanti. Per esempio, questa è una zucca. Non c'è ancora la zucca, però ci sono i fiori. Fiori di zucca. Sì, che sono buonissimi, fritti, con la ricotta. Sulla pizza. Pure in giardino, riusciamo a parlare di cibo. Andiamo. Come si chiama questo in generale? Cioè, il posto dove cresce il cibo. Orto. Orto. Siamo nell'orto. Siamo nell'orto dove ci sono verdura, frutta, tanta frutta. Qui dentro, nella piccola serra, ci sono tanti tipi di pomodori. Alcuni cresciuti, alcuni non ancora. Non disturbare i pomodori. Ehi, esci di lì. Lasciali in pace. Invece, questi alberi sono alberi di mele. Quindi, come si chiama? Questa è una mela. Questo è un melo. E adesso, nel punto più interessante e pericoloso del giardino, dove ci sono le arnie. Le arnie. Andiamo, ci avviciniamo, ma non troppo. Eh, infatti, quanto dobbiamo avvicinarci? Vieni di qua. Vieni di qua. Vieni, vieni. Qui si può vedere da vicino un'arnia. Le arnie sono, praticamente in italiano, le casette di legno delle api. La differenza tra alveare e arnia è che l'arnia è fatta dall'essere umano, mentre l'alveare è di origine naturale. E ovviamente, nelle arnie ci sono le api, che vanno in giro e fanno il miele, poi. Adesso, torniamo verso casa. Andiamo. Adesso ci possiamo accomodare sulla nostra sedia, al nostro tavolo. E quanti nomi di fiori e piante, diciamo, ho indovinato e quanti ho sbagliato tantissimo? Scrivetecelo nei commenti. E più che altro, cosa c'è nel vostro giardino? Scriveteci anche quello, dopo aver, diciamo, insultato me e la mia ignoranza in tema di giardino, nei commenti. Ciao! Ciao!